Le sale di Palazzo Medicio di Seravezza ospitano da oggi, a quasi 20 anni dall'ultima esposizione monografica, una splendida mostra di pittura di Plinio Nomellini, artista livornese scomparso agli inizi degli anni 40 del secolo scorso. Dal divisionismo al simbolismo verso la libertà del colore, questo il titolo dell'esposizione curata da Nadia Barchionni. Le opere più significative di Nomellini, appunto questa è il Golfo di Genova del 1891 e si può dire che è un incunabulo nel divisionismo italiano. Ci sono molte opere celeberrime, il Piccolo Bacco di Pitti, Baci di Sole della Galleria d'Arte Moderna di Novara e appunto molte altre che sono state prestate dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, come la Fiera di Pietrasanta, la Fiera di Camaiore è stata prestata da Genova Nervi, insomma una mostra molto grande e articolata che appunto prevede di seguire tutte le tappe svolte dall'artista nella sua carriera. Soddisfazione per questo importante evento culturale dell'estate 2017 che resterà aperto fino al 5 novembre è espressa dal sindaco Tarabella. La nostra promessa è quella di migliorarci anno dopo anno, quest'altro anno vedremo, intanto garantiamoci un 2017 pieno di frizzante armonie, questi sono bellissimi quadri, ho avuto a fare un piccolo giretto prima e ho visto quanta bellezza ci sia in quest'artista, quanta capacità di rappresentare la natura, la cultura del luogo, delle persone. Non dimentichiamoci che poi ci sono anche dei dipinti che riguardano Camaiore, riguardano Pietrasanta, è un artista dei nostri, ecco un po' la tradizione nostra è quella che qui all'interno a noi si faccia dimostrazione della capacità degli artisti che hanno lavorato in questi luoghi e per noi comunità versiliese.